buongiorno nonnino buongiorno sto cazzino ma perché perché danna affanculino ma questa questa proprio è bella questo no è bella questa questa proprio sono invece piena alla scala alla scala veramente non è vero secondo me ce l'abbiamo la stoffa pannacce 15 metri di là com'è questo occhio bene meglio oggi meglio stiamo mettendo le gocce oggi andremo a fare la visita di controllo è certo e invece tutti si chiedono ma fa 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 ma il cincilla com'è lascelo fa lascelo fa lascelo fa lascelo fa oggi oggi c'era fine da affarato quindi lasciamo un attimo sereno fa fa o no che stai fa o che stai fa una sera e poi che fai e poi che fai e che stai fa ma niente ma di me nonno quel sugo un euro ti spegne lui nonno eh beh o no vieni e lasciami via porco va vieni a giocare a padel con me si vieni a giocare a padel la partitona maestro 1 allievo 2 maestro 2 i numeri i numeri li abbiamo andati per importanza trattura della roba ci ci ha mandato grazie mille paolo dalla calabria anche ma ora che belva non ho visto il mio capocollo no senti l'odore non vuoi sentire il sapore io senti l'odore senti l'odore che c'è da questa cucina senti l'odore si senti l'odore si profumava di adesso andiamo a vedere se l'occhio è tutto ok facciamo un bel check up ok che fa un check up si check up fiamo un check up dall'occhio sono pronto che ha visto il il che è il biscione no no non è che è ma tu ci sei montato mai su queste macchine io come no e che ci facevi niente sono l'ho guidata e dopo eh ma che ci facevi niente dove ci andavi questa è 132 eh sì eh ma no questa è l'altra ne chiappe una o no la 1800 belle eh dopo le guardiamo eh guardate c'è come portare un bambino a Luna Park ti piacciono? eh che ti ricordano? che ti ricordano? che mi ricordano? eh ai tempi mie quelli quando erano scappate eh questa che è la Campagnola dell'Alfa o quella della Fiat? eh un bel dubbio eh Campagnola della Fiat? no c'è anche dall'Alfa no non credo te dico io che c'è anche l'Alfa ma tu ti sbagli eh no guarda 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 come guarda belle eh? bella questa è fatta anche per i sedili dietro e tu che ci fai dietro questi sedili? e chi l'ha guidata mai questa? che ci faresti dietro i sedili? eh sto sedili e dopo? e dopo è confuso oh con il dottor Messina che l'ha operato guardate come si prende cura di un Faustino numero uno il dottore ma è messa al mondo è messa al mondo? eh 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 adesso tu che vorresti vedere questi occhi nuovi? cosa vuoi dire? che vorresti vedere? eh niente vedo tutto puoi dire al dottore che vuoi vedere? ma sta zitta là vero? puoi dire? che vuoi vedere dai? niente adesso quando quando fra un mese che vengo che fa il controllo lui mi dice quante che ha di ciò no? dopo punto i peli esatto numero uno la mia postina adesso guardiamo anche il cincillato numero uno la mia postina va bene va bene mi strapperia tutti i capelli dove salì con te che non ce vuoi salì tu sei matto è ogni piano oh serve te forza fa le fiamme come la mitraglia dal culo no forza fa le fiamme stronzo sei uno stronzo nucleare no sei uno stronzo atomico qui c'è il dottor batti l'occhi è passato batti l'occhi batti l'occhi è solo specialistiche specialistiche il video sarà presto su youtube della visita è stata è una visita speciale intanto ti lascio ave maria piena di grappa signora in cantina ma è in cantina è in cantina o no va via no la ciabatta la ciabatta no la ciabatta no eh avete diceva il rosario fa la sentinella altro che il rosario adesso affaccia sempre quando esco perché vuole vedere con che parto che fo che non fo le nonne sono così stanno lì dalla finestra guarda poi quando mi vede a partire tutto a posto attenzione perché sto sentendo una canzone super si alza il volume eccolo vai vai più forte più forte vai vai mamma mia come bussa ma come bussa sta mac come fa andreone il grande incredibile pronto bello riccio per te per questa volta da diretta a me andiamo a fissa come si fa doppio sestro sinistro antipasto misto che si comporta vieni a far giro sul boosterillo no mira a far giro c'è anche massimino bolli questa sera saluta i cipollini cipollini quello che correva no ciao cipollini ciao cipollini ciao cipollini ciao cipollini che stai fa o no 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 e allora vuoi al bar ma che stai fa tu c'è il diavolo addosso davvero però c'è il diavolo addosso senti c'è il diavolo addosso ha detto che c'è il diavolo addosso oh hai sentito che ti ha detto me lo vabbè ce l'è basta oh ma ecco che butti che tutto ecco che tendremo un po' il braccio smettola mamma mia che odore secondo voi che sarà ha detto il dottore tuo le polpette mamma mia mmm questa sera super super polpette ma tutte queste polpette arzuga intanto con doppia polpetta ripolpettata che dieta è è quella che mi vuoi cazzo mio e dopo e dopo e dopo e dopo e dopo esatto ragazzi torta al testo più scarpetta questa è da pro buonissimo 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 e tu che gli dicevi e se rispondi e gli dicevi a pancurtoglio no no che delinquente Le tartarughe ninja ragazzi Le tartarughe ninja Che top Che figa Quattro tartarughe Io vedevo il cartone Lo ricordate? Che be' ricordo Chi c'è? Kylian Mbappé Incredibile Ancora lui Kylian Mbappé Kylian Mbappé Mi stai chiedendo in tanti Quando mi trasformerò in cantante Oramai a casa no Perché domani parto Quindi Vorreste vedere un cantante a Milano? E' in giro così? Si o no? Poi ho una notizia Domani 13.30 Uscirà il video Della visita del dottor Battilocchi Quindi ancora chi non è iscritto al canale YouTube Basta che clicca così Se iscrive è gratis raga Così clic Che stai a guardare? Eh? Che stai a guardare? Oh Che stai a guardare? Ma vaffanculo Ma stai sempre a guardare i cazzo A ristere sul cielo A guardare le donnine? Eh Guardate con io Oh Di lì non c'è la cataratta Eh? Ma vede il cielo Eh? Che stai a guardare? Cielo Cielo? Ma vaffanculo Eccolo Guardava cielo L'ho sgamato in pieno Eccolo Guarda Guarda Eccolo Ma vaffanculo Io lo giuro Stavo qua andando a dormire Ma sentivo sotto dei rumori strani Più che altro sentivo nonna che suonava dalla camera di là Perché era ora che doveva andando a dormire nonno Invece lui si ferma sempre e guarda i film Quindi ho sentito il campanello E ho detto adesso lo sgamo sicuro E infatti stava sul cielo Niente raga Dopo l'ennesima risata Anche a tarda serata Vi auguro la buona notte Qua si ride Dalla mattina Alla sera Senza mai chiedere Niente a nessuno Ma io così Che vedevo di Buonotte da capitano Vostro capitano Dei coccodrilli Che yang rumore